la cosa non è che si... Giorno Se tu controlli bene il sondolo ti accorgi le delibili ma è solo un'accessione va bene ma ci sono delle irregularità ma le tante le devi controllate ma io ti faccio vedere le quarta ma non so qua sopra ma c'è modo di sbagliare se sono opinionati se sono opinionati no no aspetta un momento adesso se sono opinionati si ma cosa è? Buongiorno 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 Mi va a fantazzi Amica cento lire Buongiorno signor direttore Cento lire Ah cento lire subito aspetti un momento eccole qua sono le ultime però scusi sa non vorrei ma guarda che ho provato prima non funziona assolutamente eh?